il traffico e c'era un ragazzo che voleva attraversare la strada a un certo punto passa un pullman e rimette i piedi indietro e ritenta passa una macchina e ritenta ancora passa un motorino e ritenta di nuovo passa un altro autobus alla fine questo ragazzo perso ogni speranza si rivolge a un vecchio appoggiato a un muro un vecchio di 90 anni e gli dice oh no, lei è tanto più anziano di me ma come la fate da avversare la strada? beh, io non lo so davvero e son nato da questa parte